E' una festa che da 40 anni mette in congiunzione il passato, il presente ed il futuro dell'agricoltura fanese, 40 anni durante i quali la festa della Mietitura di Falcineto ha fatto d'accollante tra le generazioni di coltivatori diretti con la loro passione e d'amore per la terra, la fatica e il sacrificio che questo lavoro porta con sé. Una festa dagli elementi semplici dove c'è tutto quello che accadeva nelle aie delle fattorie in occasione della Mietitura e della Trebbiatura dei Campi, il mangiare buono, delle grandi occasioni semplice ma genuino e di sostanza e poi la musica, la festa dopo settimane di duro lavoro. Per chi l'ha vissuta in prima persona e per chi invece l'ha solo sentita raccontare, vedere la Mietitura ad opera delle Trebbiatrici degli anni 50 ancora funzionanti e attive è uno spettacolo e che dire poi della musica del mitico Landini a testa calda ancora efficiente e ben solido. Io direi che non poteva andare meglio, direi che dobbiamo essere contentissimi anche se solo il primo giorno, martedì, quando abbiamo fatto le prove in campo, dovevamo fare le prove in banco con i trattori e la manifestazione è riuscita a metà perché è piovuto un po'. Oggi e ieri abbiamo avuto un tempo bellissimo che è pieno di gente come possiamo vedere e tutte le cose che dovevamo fare a partire da ieri sera, che era solo divertimento, ma solo è una parola che non va bene perché il divertimento è una roba importante, è tutto riuscito benissimo. Anche se tra mille difficoltà il mondo cooperativo comunque stringe i denti e resiste al tritacarne dei mercati globali e lottando ogni giorno con marginalità sempre più risicate per non scomparire. Stamattina abbiamo iniziato con la 71esima assemblea della cooperativa Falcineto, sono intervenuti tanti politici e noi di questo siamo veramente orgogliosi, vuol dire che comunque siamo considerati in qualche modo e anche tanti soci, il bilancio è stato approvato con una piccola perdita però di questi tempi può essere un successo. Venire anche per poche ore a questa festa al Falcineto Park non è solo un modo per passare momenti di spensieratezza, è vivere e respirare il mondo dell'agricoltura come se fosse il proprio.